Buone notizie per Carolina Marconi. I controlli a cui si sottopone regolarmente dopo la diagnosi di cancro al seno hanno dato ottimi risultati. Anche la piccola macchia al fegato emersa dall'ultima tac si è rivelata un angioma benigno. L'ex concorrente del GFVIP periodicamente monitora la sua salute dopo essere guarita dal cancro al seno. Circa un mese fa aveva raccontato sui social che l'era stata trovata una macchia al fegato per la quale sono stati necessari degli approfondimenti temendo che potesse essere qualcosa di pericoloso. Fortunatamente non è stato così. Scusatemi non sono sparita ma sono state tre settimane vissute nell'agonia più totale un'attesa difficilissima in cui l'ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio ero terrorizzata. Ieri alle 20 e 55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato al prof Marazzi. Dimmi allora anzi non dirmi nulla no no dimmi ti prego ma a bassa voce anzi dimmi tutto subito veloce. Mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora non sapevo la risposta. Mi mancava il fiato. Allora dimmi non hai nulla stai bene la macchiolina di 9 mm è un angioma benigno. La showgirl è scoppiata a piangere ha urlato dalla gioia poi ha chiamato subito la famiglia con voce tremante per l'emozione dicendo loro sto bene. Infine ha ringraziato tutti per il sostegno.